A Senigallia oltre 30 bambini e 20 volontari sono senza sede per la loro Ollus da più di un anno. Il centro di aggregazione per bambini e adolescenti Lerondini è fuori dall'ex collegio più nonno di Piazza Garibaldi dal primo aprile del 2023. Un'infiltrazione d'acqua ha fatto crollare l'intonaco del secondo piano rendendo inagibili gli spazi concessi dal comune. Abbiamo dovuto trovare un locale privato dove ci troviamo adesso e per il quale dobbiamo corrispondere una quota di 500 euro al mese. Sapevano di doversene andare ma non così presto un'uscita in anticipo di un anno la loro rispetto alla deadline del prossimo 31 maggio quando anche le altre associazioni ospitate nel Palazzo Storico dovranno lasciare gli spazi per permettere i lavori di restyling finanziati dal PNRR. Questa sede è un po' piccola e non riusciamo a far fronte a tutte le richieste che abbiamo. La sede provvisoria nei pressi di Porta Mazzini inoltre non possiede i requisiti per l'accreditamento della Ollus come centro riconosciuto dalla regione. Questo potrebbe significare niente più fondi. Noi ne abbiamo avuti per la prima parte del 2023 finché siamo stati nella sede accreditata e al momento non sappiamo se ci potranno essere concessi ugualmente. Una situazione che il Comune di Senigallia ha seguito fin dall'inizio ci racconta al telefono l'assessore ai servizi sociali Cinzia Petetta provando a trovare nuove sedi che però non sono risultate idonee. Ora bisognerà capire quando sarà possibile rientrare nel nuovo, non più ex, collegio più nono.